Parliamo di cultura, oggi c'è stato nei giorni scorsi un po' di polemica su un ufficio stampa, lo abbiamo già chiesto all'assessore Daniele, perciò mi permetto di chiederlo a lei. Sì. Sull'assegnazione diretta senza avviso pubblico di un vanno per la Casa del Cinema, pagato poi con i soldi della tassa di soggiorno, lei cosa ne pensa? Non lo sapevo niente, non sono d'accordo, a mio avviso va revocato quell'incarico.